buonasera e bentornati a talk sicilia il programma di intrattenimento e di approfondimento di blog sicilia che potete seguire sulla nostra pagina online quindi su blog sicilia.it ma per chi è un aficionato del piccolo grande schermo ci può seguire anche su video regione al canale 14 digitale terrestre oggi è una puntata particolarmente gentile già mi è scappata la prima papera e sarà per il fascino del nostro ospite benvenuta a natalia re ambasciatrice voglio presentare a tutti voi l'ambasciatrice della gentilezza in sicilia anche in calabria anche in calabria a cipicchia quindi tra poco questa è proprio una novità recentissima quindi la puntata di oggi è sulla gentilezza questo sentimento che sembra così distante ai tempi moderni viviamo un'epoca di disastri di pandemie di guerre eppure c'è chi combatte per la gentilezza dottoressa lei ci spiega perché la gentilezza può diventare così importante nel mondo d'oggi e poi piccola premessa noi siciliani ormai ci siamo abbeverati nel mantra come dire del colpire per primi no ricordo la battuta di davide nio di davide nia nel dubbio cafud invece qui nel dubbio si gentile sia almeno prudente rifletti abbiamo vissuto stiamo vivendo un'epoca fortemente violenta è indubbio che la pandemia ha in qualche modo inaridito quelli che sono i rapporti e le relazioni umane e quindi la necessità di ritrovarci in una dimensione gentile non significa altro che cercare di allenarsi all'empatia all'ascolto perché la gentilezza può essere declinata in mille modi e soprattutto in ogni ambito però qui parliamo di una gentilezza che non è soltanto il piccolo gesto quotidiano è la gentilezza che viene elevata a filosofia di vita se non sbaglio lei propone peraltro la dottoressa re appena dato alle stampe un volume facciamo un poco di pubblicità per i libri si fa sempre pubblicità ve lo faccio vedere regina inside autodeterminarsi con gentilezza questa è la sua ultima opera questa è la mia ultima il secondo libro il secondo saggio che dà alle stampe si decisamente si nel giro di un anno e mezzo il covid e la pandemia mi hanno aiutato a trovare dei momenti insomma di riflessione sulla scorta dei quali sono nate queste opere grazie all'attenzione del mio editore di Ferrara un filosofo devo dire contemporaneo che sta insieme ad un gruppo di autori come me cercando di fondare questo pensiero plurale e in particolare ritornando ai temi della gentilezza è una necessità ma è una necessità perché sostanzialmente è anche un'arma le faccio riflettere un po sulla capacità e faccio riflettere anche chi ci segue che ha oggi la gentilezza di stupirci è talmente poco praticata da destare un'enorme attenzione quindi la capacità di rompere nella nostra quotidianità attraverso un gesto gentile ci riporta sempre qualcosa indietro ci ritorna sempre qualcosa indietro non dobbiamo avere alcun tipo di timore nel pensare che non sia un sentimento totalmente gratuito perché questa restituzione è una restituzione continua anche perché la modalità della gentilezza è una modalità attraverso la quale ci si connette all'altro e quindi gioco forza si trae qualcosa dall'altro andiamo sul piano concreto però perché lei vorrebbe che la gentilezza la gentilezza venisse applicata a tutti gli ambiti della vita quindi anche la pubblica amministrazione al commercio al mondo della sanità per dirne una ma le faccio una domanda un poco quasi uno sgambetto ma di fronte al postino che ti fa recapita la bolletta della luce a 4 0 come fai essere gentile il problema lì non è sicuramente il postino quindi al postino abituati a prendercela con il messaggero delle cattive notizie invece no al postino va allargito un sorriso così come va allargito a colui quale ci sta accanto al semaforo e immediatamente suona il clacson per spingerci ad andare avanti il problema lì è del legislatore quindi a quel punto abbiamo modo di esercitare la nostra capacità di essere gentili o meno durante le urne in realtà la gentilezza non è ascetismo non è assolutamente no è un senso di giustezza delle cose e quindi è la capacità di attivarsi affinché questo principio di giustizia possa essere elevato a norma di vita io però ho una grandissima curiosità ho capito qual è come dire la linea filosofica che lei intende perseguire ma mi piacerebbe capire e scoprire qual è il momento in cui le ha capito che il concetto di gentilezza poteva cambiare la sua vita cioè è una cosa che le è insita nel suo dna ce l'ha da bambino oppure diciamo durante la vita c'è stato un momento particolare un episodio particolare che l'ha costretta a fare conti con la gentilezza necessaria io la ringrazio perché questa è un'inedita domanda è una domanda bellissima non ci credo che gliel'ha fatta mai nessuna ma incredibile ma allora i miei colleghi non hanno tantissima fantasia cioè è la prima cosa che ti viene in mente come mai che ne sono dotati in particolare le loro molto gentile ma perché mi sono mi emoziona anche perché in qualche modo le due cose vengono insieme nel senso che da bambina io da bambina quindi da piccola ad adolescente ho avuto come dire traccia caratteraccio ribelle lo sono stata lo sono stata ma prima di essere ribelle sono sempre stata una sorta di missionaria quindi questa mia volontà di trasferire agli altri in termini proprio di pratiche di aiuto di mutuo soccorso è nata è nata con me è nata anche grazie a un percorso di dolore di solitudine io credo molto circa il fatto che le esperienze di dolore possano in qualche modo strutturare molto la personalità che ovviamente ha bisogno anche di raccogliere esperienze positive che possono rallegrare quindi sono abituata ad essermi mi sono costruita su questa altalena di emozioni e in questa altalena di emozioni ho trovato sempre utile cooperare con l'altro e poi c'è stato un momento e quello sì la politica il mio allontanamento della politica mi ha fatto comprendere politica questo non lo sapevo sì sono stata anche in questi studi in altre occasioni mi perdoni può capitare ha visto che mi ha fatto i complimenti insomma invece mi sono fatto trovare impreparato la classica buccia di banana e che partito militava e che ruolo ha svolto allora sono stata dirigente del partito democratico e soprattutto di italia viva poi mi sono totalmente allontanata dall'universo della politica perché l'ho trovato estremamente risuoso personalistico al di là del partito di appartenenza e di quelle non è una questione di maglietta assolutamente anche perché oggi mi sono spostata decisamente in un terreno molto più moderato e di destra perché ho trovato anche nella dimensione dell'alternanza una buona palestra per la democrazia e questo vale vale in maniera universale quindi ritornando alla sua domanda iniziale da piccola ho maturato l'esperienza da missionaria tra virgolette quindi dallo scautismo al anche lei vittima di bar in power assolutamente sì e mi ha dato anche la possibilità di irrobustirmi e di credere maggiormente in me stessa soprattutto quando ci si ritrovava a dovere a dovere sopravvivere nelle piccole cose che i bimbi possono in un bosco magari di notte trovare come particolarmente fastidiose e poi le dico dopo dopo la politica e con le esperienze lavorative e manageriali questo questa esposizione al rapporto con gli altri mi ha fatto comprendere quando modalità scontrose e violente potessero farmi del male quindi è partito tutto da una riflessione su me stessa quindi lei sostiene anche che quando siamo aggressivi siamo autoresionisti ma la scienza lo dice la scienza lo dice chiaramente io lo spiego all'interno di questo testo ci sono due diciamo ormai attestazioni chiare che la scienza ci dà in termini di grazie all'utilizzo della gentilezza noi invecchiamo di meno perché si vengono a mettere nel nostro organismo una serie di ormoni che ci consentono di stare meglio e quindi da un punto di vista proprio fisico e fisiologico invecchiamo di meno stiamo bene siamo più sereni e siamo più allegri e poi perché ha un effetto sulla psiche molto importante la gentilezza chiama la gentilezza ci sono stati diversi studi soprattutto quindi si attraggono le persone gentili si stimola l'altro ad essere gentile se si può gestire questo piccolo esempio come un gioco gliene faccio uno gliene faccio fare uno o meglio io lo suggerisco ma faccia un testo a me adesso ce la fa a farmi un testo a sottopormi somministrare un testo di gentilezza questo no perché lei è abbastanza cinico ha capito no 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 ma in questo caso è assolutamente gentile il cinismo è anche una forma di protezione così come lo è a volte a volte la paura e le utilizziamo le utilizziamo per sopravvivere del resto fanno parte di emozioni ma la gentilezza ci consente di levarci le maschere con le quali affrontiamo ogni giorno le nostre giornate perché ognuno di noi ha tutte queste sovrastrutture che poi ci impediscono di essere ciò che realmente siamo penso di sì ma ci permette qualcos'altro in più ovvero quello di utilizzarla come un'arma uno strumento attraverso il quale scardinare non è un paradosso utilizzare come un'arma un sentimento se diventa strumento sì sempre rispettando questo principio di giustezza che noi ritroviamo in valori universali a quel punto quindi più che la gentilezza la chiave della soluzione osservita è l'equilibrio è l'equilibrio attraverso il disvelamento cercare la giustezza nelle cose e cercare di fare in modo che nell'altro si trovi un interlocutore che ti possa ascoltare per fare questo lo devi ascoltare quindi empatia la ricetta è l'empatia però non le ho dato il compito per casa il compito per casa è vada in un provi provi così come viene evidenziato da questo studio istitunitense a trovarsi in un grande magazzino o anche in un ristorante ma in un luogo o in banca o nelle poste dove ci sia una porta da aprire e una coda nel momento in cui lei apre la porta e cede il passo vedrà che questo gesto di eleganza di cortesia porterà gli altri a ripeterlo e quindi ad agevolare come una sorta di catena non vorrei fare autocelebrazione di me stesso a me capita spesso di cedere il pasto alle persone anziane alle donne è un uomo gentile ma sono una persona un po' all'antica perché mio papà mi ha insegnato questo però mi rendo conto che è difficilissima l'applicazione di questo concetto a parere dove non esiste per esempio nelle file il concetto di linea retta tutte le file sono semicircolari e quindi poi alla banca, alla posta o anche semplicemente in un panificio per comprare il pane ci sono queste file semicircolari non si capisce mai che arriva prima e che arriva dopo perché non siamo abituati a gestire le relazioni in maniera sostenibile perché lì c'è un tema e anche un tema io credo fortemente attuale noi abbiamo l'undicesimo global goal delle Nazioni Unite l'undicesimo global goal delle Nazioni Unite l'obiettivo undicesimo che si racchiude essenzialmente nell'urbanità sostenibile su questo concetto gravitano finanziamenti su questo concetto si fonda anche parte del PNRR su questo concetto l'Europa e l'intero mondo ci dà una spinta ottimistica su come realizzare una convivenza quindi esistono finanziamenti per creare dei presupposti affinché il mondo sia più gentile? no, affinché le città siano sostenibili allora a quel punto entra la mia riflessione ma è la società che deve essere più sostenibile solo grazie ad una società sostenibile noi possiamo raggiungere l'undicesimo global goal delle Nazioni Unite non basta avere i palazzi più belli per vivere meglio assolutamente no e quindi il percorso di gentilezza a quel punto cosa deve diventare? materia di studio a scuola e il mio attivismo è l'attivismo non solitario peraltro diciamo che lei è ambasciatrice della gentilezza non sono sola non è sola ma esiste un movimento della gentilezza che è riconosciuto anche delle Nazioni Unite cioè è una cosa che a livello internazionale ci si studia cioè si spendono risorse, si spende tempo e come mai diciamo non se ne parla così tanto? allora io le dico se mi permette di raccontarle in qualche modo un bellissimo aneddoto sono le cose migliori per fare capire come funziona il mondo allora come funziona il mondo? nel 1997 a Tokyo perché le culture orientali portano in sé un grande rispetto nei confronti dell'altro io lo confermo, io ho un amico giapponese che fa il cuoco a Palermo non si è arrabbiato mai soltanto una volta quando cercavamo di utilizzare la presa del suo computer e proprio lo fosse diventare molto rosso in viso si è infastidito però si è infastidito però non è mai riuscito a vorrare molto control perché c'è una gestione emozionale ovviamente molto più elegante, sobria e più contenuto questo consente a queste popolazioni e lo ha consentito nel corso della filogenesi proprio del pensiero e del loro sviluppo di essere più gentili davanti al concetto filogenesi mi arrendo me lo puoi spiegare perché non è corretto per chi ci segue usiamo anche una terminologia allora diciamo che tutti noi, tutti i popoli hanno una storia hanno una storia che è una storia umana che è una storia legata alle proprie credenze, ai culti e in questo caso in Oriente c'è una particolare attenzione nei confronti della gentilezza e della cura di sé e degli altri perché tutto parte da noi perché è chiaro che se noi impariamo a volerci bene riusciamo a capire i nostri ritmi, riusciamo a ripetere questa esperienza di amare se stessi per essere amati dagli altri e per amare gli altri in maniera più gentile perché c'è sempre l'interscambio, per questo dicevo all'inizio non è gratuito allora io confesso ancora che non ho avuto il tempo di leggere il suo saggio però ho sbirciato prima di collegarci qui in trasmissione ho sbirciato qualche pagina, ho visto che lei ha fatto un lavoro di comparazione del concetto di gentilezza nelle principali religioni monoteiste quindi questo concetto in realtà ci appartiene molto di più di quanto distante ci possa apparire e non c'è nessun titolo che ce lo possa dare perché in realtà la gentilezza è una qualità che dovrebbe essere insita in ciascuno di noi non c'è uno studio particolare tutte le religioni convergono sul concetto di gentilezza per esempio c'è una differenza fra la gentilezza del cristianesimo e quella dell'islam o dell'ebraismo? non ci sono delle differenze sostanziali, ci sono delle declinazioni differenti diventano sfumature lievissime nel momento in cui si mettono a confronto e qui lo sono messe, devo dire, senza nessuna saccenteria perché già è noiosa solo al pensarla e al pronunciarla nella fattispecie mi perdoni la tosse da fumatore prego, con grande, mi spaventerebbe se fosse altro con grande prudenza il covid lo dobbiamo affrontare con gentilezza ormai anche questo io l'ho scritto durante il covid questo saggio 15 notti è venuto fuori ha scritto in 15 giorni e complimenti quindi una scrittrice molto prolifica perché 15 giorni è un volume di... si sono 100 pagine, ci sono due contributi esterni una prefazione e una postfazione la prefazione è di Don Enzo Don Enzo Volpe esattamente un nostro parroco di frontiera, di trincea a Palermo si occupa di accoglienza perché poi dobbiamo avere anche la capacità di cercare di renderla fare comprendere a tutti di che cosa si tratta attraverso l'azione di chi testimonia ogni giorno gesti di gentilezza e questo è l'obiettivo, quello di testimoniare quindi c'è un movimento internazionale che nasce nel 97 a Tokyo pian pianino queste conferenze si allargano quindi dallo Small Kindness Movement diventa il grande movimento internazionale mondiale e in Italia abbiamo avuto una coppia quanti siete in Italia a far parte di questo movimento? allora il movimento italiano riconosciuto dal movimento internazionale che è esso stesso riconosciuto dalle Nazioni Unite è il movimento italiano per la gentilezza al momento di ambassador ci sono soltanto io e poi ci sono una serie di attivisti che si occupano soprattutto del nord Italia che fanno riferimento al movimento ma poi ci sono anche dei fabricatori di gentilezza ci sono dei comuni gentili questo però mi deve spiegare perché come si fabbrica la gentilezza è un concetto che mi risulta un pochettino astruso sul piano pratico io li sto citando perché sono dei testimoni anche loro della gentilezza che non afferiscono però al movimento italiano per la gentilezza questo per dire che comunque l'impegno di attivisti all'interno della gentilezza è variegato quindi ci sono tante sfumature di gentilezza poi che possono essere in qualche modo racchiuse in un'associazione oppure come dire stimolate dalla vita a testimoniarla non fa differenza purché ci si alleni perché è un allenamento continuo lei mi stava introducendo il tema della giornata mondiale esattamente volevo chiederci è una giornata mondiale sotto il patrocino delle Nazioni Unite sì il 13 novembre ciascun paese che ha aderito sono oltre 178 insomma è molto ampio il panorama delle Nazioni che celebrano in tutto il mondo la giornata mondiale quindi è breve proprio fra poco più di una settimana la giornata mondiale della gentilezza e cosa succederà in quella giornata? ci saranno dei convegni? siamo tutti chiamati a testimoniarla quindi dalle scuole alle associazioni ciascuno di noi basta che quel giorno proponga un'azione gentile per sentirsi parte di questo meccanismo e poi ovviamente ci sono una serie di iniziative che sono calendarizzate in tutto il mondo io in particolare ho iniziato in anticipo perché è da aprile che ho promosso il programma il valore della gentilezza per il 2022-2023 ovviamente avrà un punto di crescita e di risonanza all'interno della giornata di giorno 13 saranno tre l'incontro con Donenzo Volpe e la sua comunità alla quale trasferirei elementi di gentilezza e poi la sera durante il festival del Paladino d'Oro ci sarà un'attenzione a Politeama a Politeama di Palermo quindi l'appuntamento è il 13 novembre a Politeama di Palermo con il Paladino d'Oro dove si celebra la giornata internazionale la giornata internazionale della gentilezza ma noi iniziamo con giorno 4 con delle dirette sulla mia pagina Facebook questa volta Linea Giustizia ed ospiteremo la nostra dottoressa giudice onorario del Tribunale di Palermo Vincenzo Agogliardotto con la quale ragioneremo sul fatto che e ne sono sufficientemente certa che se fossimo più gentili anche contenziosi diminuirebbero quindi in ogni contesto la missione impossibile è portare gentilezza in un lite condominiale e mi sono trovata proprio diregente in un contesto simile ho provato a difendermi con gentilezza ho provato a difendermi con gentilezza ma perché alla fine bisogna sempre chiamare l'avvocato a un certo punto essere gentili vuol dire anche dire di no ripeto sono lontana da dimensioni ascetica gentilezza non significa rendersi significa comunque far rispettare il proprio diritto con gentilezza ma allora parliamo di punto di amministrazione lei sostiene che si possa applicare la gentilezza alla pubblica amministrazione io lo sostengo ne faccio un esempio brutale cimitero dei Rotoli dove ci sono 1200 bar in attesa di sepoltura come fanno i parenti di quelle persone a essere ancora gentili dopo tre anni di attesa nel vedere come dire i loro cari devono trovare con il giusto linguaggio la capacità di rivendicare quello che è loro diritto il tema dei diritti è un tema legato profondamente alla gentilezza perché tutelare i diritti come quelli che lei ha citato che struggono e oggi è una giornata di commemorazione importante ci fa capire quanto la gentilezza e le libertà in fondo coincidano perché se riusciamo a mantenere una società nella quale o a creare perché mantenere ancora non siamo a questo livello una società sostenibile riusciamo a tutelare i nostri diritti ed essere più liberi ed evitare ciò che accade è accaduto al cimitero dei Rotoli e non solo è in dubbio sì ma ci sono tanti esempi come direi di cattiva amministrazione esatto è in dubbio che poi uno prova a essere gentile ma in un certo punto ma si arrende può arrendersi può arrendersi per questo ci vogliono gli attivisti che ogni tanto ricordano che bisogna rifletterci un attimino anch'io sono un tito sono una persona anche particolarmente come dire passionale e quindi ci sono certe situazioni nelle quali minalbero perché comprendo che è giusto inalberarsi non significa negare il concetto di gentilezza significa rivendicare sempre qualcosa che di giusto ma un concetto ora siamo quasi in chiusura perché in effetti questi 24 minuti dedicati alla puntata sono volati via grazie a lei grazie a lei e alla sua capacità di esposizione e al modo con cui serenamente ci ha spiegato che cosa come vuole rendere migliore il mondo ma una definizione che tutti possano comprendere un po' allargata un po' più estesa di gentilezza non da dizionario cioè se lei dovesse lanciare un messaggio siate gentili perché dovete essere gentili e che cos'è la gentilezza che voi come movimento chiedete a tutti noi la gentilezza apre tutte le porte e quindi sostanzialmente una metafora che noi abbiamo utilizzato calcisticamente ed è stata ripressa dal presidente Ghirelli che con la Lega Pro mi ha aperto tutti gli stadi d'Italia io ringrazio vivamente per questo siamo stati a Messina in un momento in cui i tifosi del Messina per esempio rivendicavano contro la società una gestione che secondo loro non era coerente rispetto agli obiettivi calcistici siamo arrivati con i nostri stricioni e con il mio messaggio e quello del movimento italiano in un momento molto agitato ritorneremo domenica dopo 15 giorni con una vittoria nel mezzo per capire se effettivamente questa gentilezza ha funzionato direi che essenzialmente questo l'utilità nell'apertura delle porte la facilità nel convivere con gli altri con noi stessi e probabilmente si spende anche un po' meno si riesce a fare economia essendo gentili sicuramente si riesce a fare economia la gentilezza non ha il potere di ridurre la bolletta del gas questo ancora no questo ancora no quelli sono i miracoli sono un'altra materia non ce ne occuperemo prossimamente allora con questa battuta stupidissima io ringrazio la dottoressa Natalia Re il tempo ci ha dedicato invito tutti a leggere il suo libro Regina Inside autodeterminarsi con gentilezza seconda papera sul titolo questo è veramente imperdonabile è sulla gentilezza che si deve allenare ci ritroveremo ancora insieme e così questo percorso lo faremo insieme grazie a tutti grazie dottoressa Re e ci vediamo la prossima puntata di Talk Sicilia grazie